xbox serie 6 raga day one edition day one edition andiamo a provare questo gioco che è uscito oggi for far changing tight oh si può anche andare con la terra va bene va bene proviamo dai sembra interessante sembra molto interessante day one edition è uscito oggi sul game pass microsoft eccoci qua è la nostra mitica serie 6 eccoci qui amici miei amici miei eccoci qui no bello questo sistema no 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 perché vedi no 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 cos'è che questo? ok pixel aaaaa che cosa? costissimo ok ragazzi forse però eh oh 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 aaaaaa bello oooooh oooo ooooh 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 Ho capito. Ok. Se faceva così, guarda. Non così, andiamo avanti. Un'altra cosa, andiamo avanti. Un'altra cosa, andiamo avanti. ma poi vuoi dire che ha capito una cosa e bisogna attaccarlo ok qui vorrei dirlo ho l'idea di magari non ho non l'ho fatto proprio bene a livello grafico e artistico direi cosa è successo a questo lato della città a livello grafico e artistico ah ok è impossibile andare dentro di ma praticamente è un pesciolino secondo me è un po' ora che bisogna no 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 è una pompa a livello grafico e artistico a livello grafico e artistico che succedeu ah ok non serviva bella raga bella raga di un'edizione far changing for ties time è tutto enigmi eh tutto ad enigmi molto bello devo dire allora l'ambientazione ci sta graficamente ci sta anche graficamente posso quadrare sempre avvicinarlo vedi non dirmi che è tipo un motore elettrico no 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 Sì, non è vero. Oh Grazie a tutti. 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 Ah... Grazie a tutti. 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 Per riparare... il sensore... per... 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 Grazie. 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 Allora, oggi, martedì, primo marzo 2022. E' uscito due giochi che avevo comprato a Day One. E' del PlayStation Plus. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Ho sbagliato perché ho preso dentro un robo lì. Esattamente qua bisognerà vedere adesso come proseguire. Adesso si ferma una bella botta e vedo già un gommoncino di là. Va bene, da Far Changing Tides è tutto. Però... Vedi, l'abbiamo riparato. Da Far Changing Tires, Tides è tutto. Marco Drums Games. Ci vediamo domani sera. Amici miei. Allora... Oh, tutto bello in italiano. Quanto è bello. Riprendi, carica, nuova partita, impostazione, comando, statistiche, riconoscendo, cambia utente. Allora... Ultimo saluto da... Ce l'ho fatto adesso. E niente, dai. Allora... Da Far Changing Tides, 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 Tides... Marco Drums Games è distrutto e vi saluta. Buonanotte. Ci vediamo domani con... Megalive. Domani mercoledì. Quindi... Megalive. Alle 6 siamo già in live con qualche gioco che può essere questo. Elder Ring, Marta is Dead. Dovrebbe esserci una patch che risolve il problema che ho avuto di Freeze. Horizon Zero Dawn, quello dei camion, on the road, oppure qualcosa, insomma, dai. Ci vediamo e ci divertiamo domani sera insieme. Ciao amici miei, buonanotte a tutti. Grazie a tutti.